ma salve ragazzi bentornati sul mio canale qui come vedete ho questa fantastica sete da gaming che ora vi spiegherò un pochino perché fantastica non è proprio eh cioè però inizia a piacermi allora innanzitutto i braccioli raga cosa che voi non vedete ora vi farò vedere qualcosa metto qualche piano non lo so i braccioli sono comodissimi come vedete ben registrare i video li adoro proprio cioè riesco a fare questa cosa con le mani così non so quanto si vede ok mi vedete le mani è bellissimo raga è proprio antistress mentre gesticolo all'interno dei miei video youtube e quindi l'adoro per registrare fa anche un pizzico di figura giusto un pochino poi è bianca io adoro il bianco quindi addio comodità ed ergonomia allora secondo me la serie è troppo alta nel senso che io ora so con il livello minimo sono alto 1 80 e tocco bene a terra se la alzo inizio a non toccare più questa cosa mi molto fastidio le ruote scivolano velocemente forse troppo quando ti siedi dei colli verso il retro questa cosa non è che mi garbi più di tanto l'inclinazione c'è però diciamo che quanto sono marsi progettisti perché diciamo che qua c'è una leva per bloccare l'inclinazione ora potete bloccare l'inclinazione quando state seduti ma non potete bloccarla una volta sdraiati questa cosa è una che ad assurda ragazzi perché io mi voglio sdraiare e bloccarla la misto tanto bellino sulla serie non posso farlo zona cervicale purtroppo un po allontana dalla testa vi costringe a stare troppo indietro però qui c'è un foro dove potete applicare eventualmente un cuscino nella zona cervicale da acquistare separatamente la zona lombare invece la zona dorsale quindi qui sulla schiena all'altezza dell'addome del petto ragazzi sono veramente comode vi tengono con la schiena molto attaccata in quanto il sedile essendo comunque in similpelle non vi fa scivolare in avanti non vi fa assumere una postura scorretta c'è un leggero riconfiamento nella zona lombare che vi permette di avere una giusta postura quindi comoda non troppo però comoda e soprattutto per quello che costa io l'ho pagata intorno ai 130 euro purtroppo la mia variante bianca non era disponibile vendute sfida da amazon ma l'ho presa da un rivenditore di terze parti sempre su amazon che però mi ha lasciato molto soddisfatto spedizione eterna immensa ragazzi ho aspettato tipo una o due settimane e non ce la facevo più perché abituato con prime che la roba che arriva il giorno dopo praticamente vi giuro stavo morendo pensavo che questo pacco fosse disperso invece no ci metteva solente tanto ad arrivare ma dopo che è arrivata mezz'ora 40 minuti di montaggio e l'ho trovata davvero comoda se devo dire per la consiglio diciamo in generale sì se il vostro budget è basso io l'ho confrontata con una sedia di ikea la marcus versione con il sedile in pelle perché ce ne sono versioni che preferisco quella in pelle perché i braccioli sono comodi di quella in pelle invece quella versione di stoffa 129 euro di che ha i braccioli in gomma e chi gioca ad esempio tiene i gomi dipoggiati no assolutamente no però quella un meccanismo reclinazione molto molto comodo ragazzi io sono innamorato di quella serie purtroppo non ho voluto prendere quella serie perché ho detto voglio una serie da gaming figa quelle da ufficio però quasi me ne vento quindi ragazzi vi lascio il link dei prodotti che ho citato qui sotto in descrizione voglio sapere anche la vostra opinione che se ti avete usato una serie da gaming oppure no facendo una riflessione particolare in tempo di kovic siamo tutti a casa a studiare se siete universitari studiate a casa eccetera non ci muovevamo tanto siamo statici ragazzi avere una buona sedia qualsiasi essa sia è fondamentale per la nostra salute piccolo disclaimer perché ci tengo a queste cose magari la gente le sottovalta poi si trova con la scoliosi meglio comprarsi una sedia e spendere un paio di centinaia di euro quello che volete piuttosto che spendere poi in viste ortopediche e busti correttivi centinaia centinaia di euro per appunto correggere dopo un difetto che e fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando ragazzi like iscrivetevi al canale come sempre ciao